Buonasera, concludo la serata qui al San Genesio, qui in zona Piazza Mazzini, come vedete qui alle mie spalle, in occasione dell'ottavo anno della tua edizione del Vitala Festival, che ospita in questa occasione del 1 novembre, quindi da oggi, fino al 14, Stefano Marcovaldi, che è qui vicino a me, un brevissimo fotografo, buonasera Stefano, che espone questa sua personale qui al San Genesio e adesso cerchiamo un po' di capire esattamente come si muove Stefano nell'ambito della fotografia, ma soprattutto lui è un attento osservatore della realtà, possiamo definirti così, e lui è un esponente della cosiddetta street photography. Sì, anche se... Ti possiamo collocare in questa denominazione? Io preferirei chiamarla foto urbana. Foto urbana, italianizia. Italianizia. No, certo. È un'inflazione... Poi dagli anglicismi abbondano. È una foto che in fin dei conti si fa sempre. Certo. Nel momento in cui uno esce per fotografare ha bisogno della luce, la luce la troviamo fuori, in strada, senza tante strutture di fari, faretti. Di conseguenza io ho una passione nel vedere la gente intorno a me. Cerco di... Catturare. Catturare quelle situazioni che io ritengo personalmente particolari, caratteristiche, simpatiche. Cercando sempre di trovare un lato umano, ma non negativo, positivo, qualcosa che aiuti anche un po' un ragionamento per chi poi dovrà vedere la foto. Quindi un ottanto osservatore e mi piace questa tua declinazione appunto di andare a cercare anche un sorriso, no? Insomma che naturalmente colora, se vogliamo, tutto quello che circonda, che ci circonda, no? Cioè dà sicuramente un'impronta diversa. E può essere... Ecco, intanto ti volevo chiedere come nasce la passione per la fotografia? Partendo da lontano. Partendo proprio da lontano non ricordo. C'è stato qualcosa che è scattato in te. Come casualmente capita a tutti, le foto che fanno i papà e i propri figli. Certo. Mio padre aveva acquistato, alla mia nascita, una macchina fotografica, oltretutto costruita in officie Galileo qui a Roma, qui una perla, assomigliante un po' all'eleica dell'epoca. E per cui io iniziai a vedere foto. Poi a una certa età, 15, 16 anni, 14, non ricordo con esattezza, mi incuriosiva il processo della fotografia e dello sviluppo. Non esistevano corsi. Esisteva qualche libro, forse quello di Fenninger, ma avevo la fortuna di abitare a poche centinaia di metri da un famoso negozio che a Roma esisteva, era Metro Import. E lì ho cominciato a chiedere consigli, a acquistare i primi acidi. Perché sviluppavi tu, no? Sviluppavo io, sì. La prima macchina fotografica, pellicola, il primo ingranditore. E così sono andato avanti per anni a sviluppare e a scattare. Per cui è una passione che da sempre possiamo dire. L'oggetto della tua attenzione è sempre stato ciò che ti circondava o sei partito da altro? No, sempre. Come dicevo prima, le foto io le ho sempre cercate di fare all'aperto, dove c'è luce. Per cui anche qua ho presentato una foto di pellicola, scattata su pellicola, nei fine anni Ottanta. Situazioni che trovavo nelle zone più frequenti di Roma, Piazza Nauna, il Pantheon. No, mi è stata sempre una passione quella di fotografare il quotidiano, le persone. Momenti del quotidiano. Dove ancora non era la moda della sito fotografi. Mi piace un passaggio che io, naturalmente io mi informo perché insomma devo anche fare questa cosa. Una buona foto di strada è un momento rivelatore. Sublime dicotomia dell'esse, del mondo intorno o quantomeno di quello percepito. E' perché poi c'è l'interpretazione personale. Io scatto, devo dire che scatto tantissimo. Ho sempre con me una macchina fotografica di piccole o medie dimensioni. Io ne ho anche una un po' più piccola che è sempre molto molto ottima, molto buona. E maneggevole tra l'altro. E tascabile. Certo. Per lavoro e faccio un'altra attività, sono sempre in giro per Roma. Io in tasca ho sempre una macchina fotografica. Quindi non ti abbandona mai. Mai. Peggio del cellulare. Il cellulare lo dimentico, la macchina no. Non ne vuoi fare a meno. No, è proprio una cosa viscerale, diciamo così. Vogliamo definirla in questo modo. Ecco, tutto questo che racconta Stefano lo possiamo sintetizzare proprio anche nel titolo di questa mostra che si intitola Gente intorno a me, foto dei supereroi di tutti i giorni. Perché in realtà poi, il supereroi Stefano, siamo noi, no? Il quotidiano che ci circonda, la gente apparentemente insignificante, no? Sì, insignificante per noi che non sappiamo quali sono i suoi pensieri, i suoi problemi. La foto che poi apre la mostra è stata scattata a New York, a Atam, nel momento in cui stavo attraversando una strada. Ah, sì, me lo ricordo. Sempre con una macchina in mano. Vedo avvicinare davanti a me, arrivare tre ragazzi, due ragazze, ma è un ragazzo completamente mascherato da Spider-Man con una spesa in mano. E lì è scattata subito la foto, come è la mia abitudine, appena vedo un soggetto scatto. E quella è venuta fuori i supereroi di tutti i giorni. Per cogliere l'attimo, no? Sì, e infatti nel mio blog io l'ho intitolato Cogli l'attimo, perché è l'attimo quello che... Quindi il tuo blog si chiama Cogli l'attimo? No, marcovaldifoto, ma è il sottotitolo, cogli l'attimo. Marcovaldifoto.blogspot.it Ecco, perfetto. Diamo questo ricevimento, magari qualcuno vuole andare a curiosare, no Stefano? Si può. Si può. È concesso. È di libero accesso a tutti, insomma. Allora, devo dire, ecco, quindi io ho visto alcune foto rigorosamente in bianco e nero, no Stefano? Mi sembra che questo è un po' il tuo imprinting. Mi imprinto in bianco e nero, anche se da alcuni mesi a questa parte sono ritornato un po' al colore, ma è stata una casualità. Nel cercare un file scattato a New York non trovavo il file in bianco e nero e sono andato a recuperare i file macchina, detti così raw, che scatto sempre in doppio e devo dire, ho scoperto il colore, il mio colore, anche perché quando io sono in giro non guardo il colore, ma guardo la situazione e forse mentalmente sono abituato a vederlo subito in bianco e nero e scatto. Fortunatamente scattando in entrambe le modalità ho il modo di recuperarmi il colore e ultimamente sto scattando in colore. Cercando attenzione, con molta più fatica, sia la situazione che una combinazione di colori contrastanti, gradevoli, curiosi. Quindi comunque, io sono anche un grande appassionato del bianco e nero che indubbiamente ha un grande fascino, no? Anche per, voglio dire, catturare alcune situazioni, però insomma anche il colore può regalare belle immagini, no? Il colore può regalare, ma credo dire che sì, entrambi. Il fattore bianco e nero sta... È più successivo. Ma anche nella mia scuola, nel senso nel mio autotidatta, cosa potevo fare? Era più accessibile lo sviluppo del bianco e nero, la stampa del bianco e nero. Ho tentato anche la stampa colori e cibo, ma mi sono fermato per la complessità e l'attrezzatura. E ho continuato sempre nel bianco e nero. Il bianco e nero ha un suo fascino. Che continui a sviluppare tu? Sì, anche se ormai lo sviluppo, lo faccio con una pellicola 6x6, con una macchina fotografica antica, la stenopedica, il Pinolla. Quello è l'unico uso che faccio di pellicola oggi. Le altre foto sono ormai in digitale. Che opinione hai tu del digitale? È uno strumento. No, è uno strumento, però voglio dire, ci sono alcuni fotografi, alcune correnti di pensiero che dicono ma sì, il digitale è molto buono, però insomma, l'analogico... L'analogico è una storia, è un'affezione, è una passione. Oggi sto vedendo le macchine digitali che stanno avendo un'evoluzione enorme e stanno andando ad avere anche una buona qualità. È una questione soggettiva. Io sono del parere che la foto la fa il fotografo. Io posso avere una macchina fotografica sostanzialmente identica. Cioè, una nel retro ha una struttura di cellulosa con una emozione, l'altra ha una struttura di silicio. Ma la macchina è la stessa. Cambia il modo di registrare. Ha delle potenzialità maggiori. Però dietro c'è sempre un uomo? C'è sempre la mente. La mente e l'occhio. La mente e l'occhio. È quello che fa la differenza. Di là poi dell'attrezzatura che utilizzi. Io posso fare delle ottime foto anche con una usa e getta. Se io sono bravo a comporre l'immagine, a vedere il soggetto, a capire tutto, qualsiasi strumento lo posso utilizzare. Ovvio che una macchina più performante mi può consentire delle perfezionamenti, delle piccole e grandi accortenze che sono utili. Però se non c'è l'occhio attento, tutto questo si vanifica. Non voglio fare il cattivo, ma vedo tante persone che hanno potenzialità d'acquisto e comprano strumenti costosissimi. Però poi il risultato non è che sia brutto. Ma è da migliorare. È da migliorare. Allora io ringrazio Stefano Marcovaldi. Allora mostra che si apre questa sera. Si è aperta questa sera. Sarà qui al Teatro San Genesio fino al 14 di novembre. Gente intorno a me, foto dei supereroi di tutti i giorni. Veramente invito tutti qui a venire. È una mostra molto interessante. Stefano sarà qui, sarai presente. Quindi sarà anche occasione per scambiare quattro chiacchiere con lui. Stefano io ti ringrazio molto. Grazie, ringrazio voi. Questa opportunità che mi ha sorpreso piacevolmente. Bene, questa bella chiacchiera da rilassante. Stefano in bocca al lupo. Crepe il lupo e buone foto a tutti. Assolutamente. Buone foto a tutti, grazie.